Ciao compari, oggi avevo voglia di pasta con le zucchine ma a modo mio Iniziamo friando il naso delle zucchine Scoliamo la pasta in padella, basilico, olio, sale, zucchine e acqua di cottura Scoliamo la pasta, pecorino di quello serio come se piovesse E adesso sua maestà l'anduja Sotto i 100 grammi di pasta è sempre un assaggio Quindi mettiamo come si deve, mettiamo l'anduja Una foglia di basilico a completare E guardate che spettacolo E vi come ti siano i tuoi calabria food